Il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara a distanza di poco più di un mese è tornato in provincia di Teramo, questa volta a far visita alle scuole dei comuni costieri. Il primo appuntamento è stato a Silvi dove il ministro ha annunciato importanti fondi per l'istituto comprensivo Giovanni Pascoli. Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto a suo tempo e c'è infatti uno stanziamento PNRR, vi dico la cifra esatta, per Silvi Marina sono 523.547 euro. Per tutta una serie di attività che riguardano in particolare l'istituto comprensivo Giovanni Pascoli e credo che quindi questa sia una buona notizia. Il ministro ha voluto anche ricordare i finanziamenti che il governo ha messo in campo per le scuole abruzzesi. Per quanto riguarda gli interventi che noi abbiamo programmato per la regione Abruzzo, nel suo complesso dunque, voglio solo ricordare che abbiamo quasi mezzo miliardo di euro di investimenti e abbiamo fra l'altro anche mantenuto la promessa perché abbiamo portato quasi 13 milioni di euro per Agenda Sud, più altri circa 1.300.000 euro per il potenziamento di diverse scuole. Sono complessivamente 12 scuole in cui investiamo 60 nuovi docenti, ulteriori docenti, per realizzare quel progetto di, come dicevamo, riunire l'Italia per dare a tutti i giovani, in particolare ai ragazzi dell'Abruzzo, le stesse opportunità formative. Questo è il messaggio che io porto oggi qua a Silvi e più in generale in Abruzzo. Le promesse che avevo fatto le stiamo mantenendo.